E' già operativa a Santa Margherita del Belice la nuova rete pubblica di telecomunicazione a banda larga Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente ai cittadini, alle imprese e ai professionisti del comune in provincia di Agrigento di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è in particolare concentrato nelle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce disponibile a Santa Margherita del Belice raggiunge 4176 unità immobiliari attraverso le tecnologie FIT la vibra ottica stessa fino all'interno degli edifici. Quest'ultima è una soluzione basata sul rilegamento in vibra ottica delle stazioni radiobase in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zona a scarsissima densità di popolazione. Tra gli edifici coperti ci sono l'asilo nido comunale, la scuola materna Rosa Gazzi, la scuola elementare San Giovanni Bosco, la scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la caserma dei vigili del fuoco, l'ex distaccamento dei vigili del fuoco, quello del corpo forestale, il municipio, la caserma della polizia municipale, il museo, la biblioteca comunale, il centro per l'impiego, la guardia medica e Palazzo Sacco. È un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga BUL gestito da Infratell Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sotto il coordinamento della regione siciliana. Molto ridotto l'impatto della posa in opera della fibra grazie a tecniche di scavo innovativi e sostenibili che consentono a Open Fibra di operare tranquillamente.